Brefotrofio La croce non si compie, è una divergenza del vuoto centrale, un sacrificio che non dispiega. Sono occhi che portano al segno nero. In questo viaggio cadono le impronte, la ruota si ferma in oscure reminescenze, piccole figure, oggetti vivi. È un passante, la rana morta del giorno, il sosia che abita la statua. Croce di mancanza che estromette, spettro che non solidifica. Da un albero capovolto scende il mastice di ogni giuntura. Voci rauche cadono in verticale, schegge di legno, pezzi trafitti nel terreno, come ricordi senza lacrime. Il letto è laterale, il ricordo gode di una certa angolarità. I pertugi, le pareti che sfumano nel buio, sono annidamenti costruttivi di mondi che sfregano con il presente. Il letto è un letto che sostiene la forma del corpo, corpo che va dal cuscino alle molle che perforano la stoffa. Scorrendo sulla carne protetta, una mano segna una gamba, la compagna per scomparire. Il busto è composto, tagliato dalla luce. Si può sentire un respiro compresso che appartiene a un'instabilità o una atarassia delle cose. Giacere in apparenza, irretiti appena prima di farsi in pezzi. Il volto è una pasta nera, rivela due occhi disarmati. In giardino due anziani a metà, divisi dagli sguardi, sradicano erbe matte che li attorniano. Seccano i lineamenti al sole, dondolano in equilibrio, sospinti e bilanciati da contrappesi, connaturati al corpo, temporale, meccanico. Dentro, nella cucina, si compiano azioni. Si flagella, si taglia, si invade la sostanza appena morta. Trapassata, compiuta, appesa con gli odori, preparata al rito, sarà il sacrificio delle nostre schiene a lutto. Dosare il sale, il liquido nella giugolare. L'aria non deve asciugare del tutto per concedere un suono inferiore al corpo totale, confinato. Giochiamo ad orbite che si muovono. Alle mani legate dal freddo, continuo a premere sull'addome un rifiuto che è voce. Ho legato fili minuti al passo per permettermi un racconto. So che abito. Confluire in interni portano figure come oggetti soli, già vissuti, poco prima di essere gettati. Nascere a polmone chiuso, affogati, avere un'idea di anni sulle dita. Il parlatorio all'ultimo piano è un quadrato. Si appiattisce riducendosi a pellicola. I stanti in foglietti. Invitano a una posa, compongono sullo sfondo di una tela, proiettano la luce, osservano, aspettano il ritorno del morto.